Buongiorno, ben ritrovati a Di Prima Mattina. Oggi è venerdì 16 giugno 2023, siamo in diretta con la nostra rassegna stampa per leggere e commentare insieme i titoli pubblicati sui quotidiani locali, quotidiani regionali. Come di consueto andremo a sfogliare insieme il centro ed il messaggero. Partiamo subito dal quotidiano Il Centro, la carrellata sulle prime pagine delle quattro edizioni provinciali. Iniziamo con quella di Teramo, il titolo d'apertura è dedicato ad alcune novità che arrivano sul fronte della ricostruzione. Post-sisma cambiano le regole, questo è il titolo che leggiamo insieme sulla prima pagina del centro. Servizio di supporto ai sindaci per applicare il nuovo codice degli appalti. C'è stato un incontro, una riunione a distanza ieri tra i sindaci del cratere ed il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Poi colpisce subito a centro pagina la foto che vedete qui pubblicata e che andiamo a commentare subito. La foto ritrae a sinistra Don Giovanni Bruni, parroco emerito di Colleparco a Teramo della parrocchia di San Gabriele della Dolorata a Colleparco che ha festeggiato 70 anni di sacerdozio, è stato festeggiato dai suoi parrocchiani domenica scorsa. Qui lo vedete abbracciato e sorridente all'attuale parroco di Colleparco Don Giuseppe Lavorato. C'è una bella intervista, una pagina intera dedicata a Don Giovanni Bruni all'interno del giornale, un parroco molto conosciuto sul territorio proprio per i suoi 70 anni di sacerdozio e per aver prestato il servizio pastorale in tante parrocchie del territorio, originario di Bellante. Ha iniziato appoggio un bricchio, parrocchia montana, per poi girare tra Isola del Gran Sasso soprattutto e poi appunto Teramo nella parrocchia di Colleparco. C'è un ritratto, un'intervista di Adele e di Felice Antonio sul centro nelle pagine interne che consiglio di leggere. Poi rimaniamo sempre sulla prima pagina del centro con un titolo che ci porta però all'Aquila. Siamo ancora sulla edizione di Teramo ma si parla dell'Aquila. Terremoto ribaltata alla sentenza shock. Il giudice, un ennesimo giudice su un ennesimo filone dei processi seguiti al terremoto del 2009, ha detto che non c'è nessun concorso di colpa per chi è rimasto a dormire nelle proprie abitazioni la notte del 6 aprile 2009, risarcimento di un milione e mezzo alle vittime. In quest'altro, ricordo, filone diverso da quello che nei mesi scorsi ha generato tante polemiche per la sentenza di un giudice che invece ha riconosciuto un concorso di colpa alle vittime per il fatto di essere rimasti a dormire imprudentemente, secondo il giudice, nelle loro abitazioni. Di spalla, di spalla, la sanità in Abruzzo, ospedali stop ai tagli dei letti, servono medici e più infermieri, una protesta, un'assemblea ieri che si è tenuta a Pescara tra tutte le componenti del mondo sindacale sanitario dell'Abruzzo, questa la fotografia scattata. Dal comune di Terrami invece arrivano aiuti alle famiglie per i campi estivi dei bambini, con la novità quest'anno che i voucher sono erogati direttamente alle famiglie che scrivono i propri figli nei centri estivi, non più agli organizzatori degli stessi centri estivi. Nel taglio basso si parla di sport con la prima scelta del nuovo presidente del città di Terramo, Siamo Filippo Di Antonio, editore di Super J, da pochi giorni appunto al vertice della società bianco-rossa. La prima scelta è il nuovo direttore generale Antonio Paoluzzi. Ieri l'annuncio ufficiale di Antonio sceglie l'avvocato 49enne, originario di Avezzano, che avrà quindi il compito di dirigere tutti gli aspetti legati alla società. Si entra anche un po' nel vivo delle scelte tecniche, ci saranno oggi, dovrebbe essere oggi l'incontro con il direttore sportivo della passata stagione, Paolo D'Ercole, per capire se ci sono i margini e le condizioni per proseguire insieme l'avventura. Altri titoli sempre dalla prima pagina del centro, Battere in mare, da ieri divieto di balneazione sulla costa a Giulianova, tolto il divieto a Cologna, perché un tratto riguardava anche il mare di Cologna-Spiaggia, non ancora a Giulianova si attendono gli esiti delle controanalisi dell'Arta. A Pineto invece parcheggia a pagamento dal 18 giugno, dunque da domenica, per tre mesi. Questa è la prima pagina del centro edizione Teramo. Andiamo avanti con quella di Pescara. Titolo d'apertura sullo scandalo che ha travolto il Comune, gli arresti, quattro arresti, tra i quali anche il dirigente comunale Trisi, per uno presunto scambio di mazzette e droga in cambio di appalti pubblici. Il titolo rompe il silenzio dopo giorni il sindaco Carlo Masci, bufera in comune, Masci dice io resto. Il sindaco rompe il silenzio dopo l'arresto del dirigente Trisi e dopo varie sollecitazioni da parte dei partiti di opposizione che ne hanno chiesto anche le dimissioni. La Lega, partito di maggioranza in comune, chiede più controlli. Poi nel taglio alto le infrastrutture strategiche per la regione, la Pescara a Roma costa 9 miliardi, parliamo della ferrovia, della velocizzazione della ferrovia tra Pescara e la capitale, crescono le spese, ma il commissario Vincenzo Macello, che è vice direttore di RFI e che ieri è intervenuto a Pescara ad un convegno organizzato dalla CISL, ha annunciato prime gare a fine mese. Dunque il progetto non si blocca, non si interrompe, nonostante sia stato stralciato dai fondi del PNRR, proprio perché i tempi sono molto lunghi e non potrebbe mai essere completato dentro il 2026. Per gli eventi estivi inizia Estatica a Pescara e arrivano i Big, Tananai, Mr. Rain, Fabri Fibra, questi i volti, nomi più attesi per gli eventi estivi nella rassegna Estatica al Porto Turistico Marina di Pescara, ci sono 50 eventi fino a fine agosto. Novità sempre da Pescara, ce ne siamo occupati anche nelle precedenti occasioni in cui siamo stati insieme in rassegna stampa, le polemiche su Corso Vittorio, sui lavori previsti nella via dello shopping principale di Pescara, slittano i lavori, partono il 24 luglio, nuova data, ma è comunque polemica per questa decisione dell'amministrazione che non trova d'accordo i commercianti. Taglio basso, un lutto che ha colpito Pescara, muore una mamma di 41 anni, Francesca Di Leonardo voleva curarsi negli Stati Uniti, lascia una bimba, era un ingegnere pescarese, si terranno oggi i funerali ai Colli. E poi anche sulla prima di Pescara del centro una notizia di calciomercato, il Pescara, società che ripartirà dalla C dopo essere stato eliminato nei play-off dal Foggia, valuta Rocca e piace la punta Capanni. Questa è la prima pagina del centro di Pescara, andiamo avanti, adesso ci occupiamo di quella di Chieti. Cronaca in apertura, giovane aggredita, allarme, sicurezza, dottoressa presa a pugni, appello dei medici dell'ospedale, servono le telecamere, quindi un caso di aggressione purtroppo frequente in ospedale, danni degli operatori sanitari, una dottoressa in questo caso è stata vittima di un'aggressione, è stata presa a pugni e quindi viene richiesto un innalzamento dei livelli di sicurezza. A centropagine invece c'è una foto che arriva dal centro storico di Bomba, siamo in provincia di Chieti, dove negli ultimi giorni, anche ieri, si sono concentrate le maggiori preoccupazioni per il maltempo, nubi fragi e fiumi esondati, famiglie allontanate dalle case. La provincia di Chieti devastata, così titola con termine forte. Il centro su questa foto devastata dal maltempo, esondazioni scantinate allagati, strade danneggiate, danni alle auto e un paio di famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Queste le conseguenze della perturbazione, ma ricordiamo che nei giorni scorsi situazioni simili si sono verificate anche in provincia di Teramo, ad esempio in particolare nel territorio di Campli, nella frazione di Garrufo, dove quattro famiglie, se non sbaglio, sono state costrette a lasciare le loro case a rischio frana per gli smottamenti del terreno. Nel taglio basso, vasto, nuova ordinanza del sindaco, 70 cinghiali da abbattere, sale il numero degli ungulati individuati nel centro urbano, ce ne siamo occupati in settimana con il nostro inviato, vasto Lino Nazionale, che era andato a documentare la vicenda, la storia delle aggressioni, i danni dei turisti, soprattutto dei turisti, di quello che molti hanno descritto come un lupo, molto probabilmente un cane selvatico, ma aveva riportato poi soprattutto le testimonianze dei locali che parlavano di una vera e propria invasione di cinghiali nella zona, fino alla marina, fino alle spiagge, e effettivamente questo titolo lo conferma con un numero di 70 cinghiali da abbattere, secondo un'ordinanza del sindaco. Ultimi due titoli, ritroviamo la notizia della morte della giovane madre ingegnere di Pescara, che ha lavorato in Sevel, 41 anni, non ce l'ha fatta nella sua lotta contro la malattia, e poi a Lanciano, invece nei vicoli, le scalinate sono a pezzi, rischiamo le cadute, denunciano i cittadini. Andiamo a chiudere questa carrellata sulle prime pagine del centro con quella dell'Aquila. Titolo d'apertura, sisma ribaltata, la sentenza shock, il Tribunale, nessun concorso di colpa, sì al risarcimento per le vittime. Come dicevo prima, si tratta di una seconda sentenza, di una sentenza diversa rispetto a quella che nei mesi scorsi invece aveva assegnato un concorso di colpa anche a chi era rimasto a casa a dormire quella notte, la notte del 6 aprile 2009, pur nel susseguirsi delle scosse di terremoto. Secondo quest'altro giudice invece non può essere assegnato alcun concorso di colpa alle vittime. scomparso il rettore di Collemaggio in taglio centrale, altro titolo sulla prima pagina del centro, Don Nunzio Spinelli ha guidato la Basilica per 16 anni, domani i funerali di spalla, Sanità all'Aquila in 500, protestano davanti all'Asle, l'azienda fissa un vertice, si parla appunto delle difficoltà della sanità pubblica nell'Aquilano e c'è stata questa protesta animata in particolare dai sindacati. Cronaca Avezzano, lavoratori in nero nella discoteca scatta la chiusura e poi invece in taglio basso l'inchiesta che ha portato alla denuncia e quindi al coinvolgimento di numerosi 10 poliziotti della polizia stradale di Prato-La Peligna, inchiesta aperta dal Tribunale della Procura di Sulmona, gli agenti respingono le accuse e 10 poliziotti in udienza dal GIP in 4 non rispondono. Dalla Marsica Massadalde, 40 agricoltori in ginocchio per le piogge, comparto agricolo della Marsica, uno dei più importanti della regione che è stato fortemente colpito dalla lunga fase di maltempo degli ultimi mesi, fase di maltempo che dovrebbe essere alle spalle, secondo le previsioni meteo anche raccolte e diffuse dal nostro esperto Marco Di Loreto, a partire da oggi dovrebbe entrare ufficialmente come dire la vera estate, quella che porta con sé caldo, sole e stabilità. E poi, ultimo titolo sulla prima pagina del centro edizione dell'Aquila, Castel di Sangro, si continua a parlare e anche a polemizzare per la presenza del Napoli quest'estate in ritiro, ormai siamo, se non sbaglio, al quarto anno dei sei previsti di presenza del Napoli in Abruzzo, il sindaco Caruso dice basta critiche per i costi. Erano questi i titoli della prima pagina del centro edizione dell'Aquila e ora ce ne andiamo sul Messaggero e partiamo con la prima pagina dell'edizione regionale appunto del Messaggero, che dà ampio spazio alle novità emerse ieri per il tracciato ferroviario Pescara-Roma. Così sarà la nuova ferrovia e il titolo virgolettato che riporta dunque anticipa quanto detto ieri dal commissario Macello, vicepresidente di RFI, che ha illustrato il progetto di potenziamento. Subito il lotto interporto, poi le tratte taglia Cozzo-Vezano e sul Mona Pratola-Peligna. La foto che dà conto a centropagina degli effetti del maltempo in provincia di Chieti, bomba d'acqua nel Chietino, fiumi a rischio e sondazione, ma c'è ancora allarme frane anche a Campi, come dicevo poco fa in provincia di Teramo. L'inchiesta Trisi, così sintetizzata, l'inchiesta che coinvolge il dirigente del comune di Pescara, il sindaco Masci, come abbiamo detto, ha annunciato che non darà le dimissioni, di bufera politica dopo gli arresti, Masci resiste. La giudiziaria invece da Teramo ci riporta sulle pagine del messaggero ancora ad occuparci del processo contro i capi di quella che è stata definita un po' una setta che ha sede a Campi, nel comune di Campi e che sono accusati di abusi sessuali, violenze sugli adepti. Sono sfilati in tribunale appunto 11 adepti che hanno denunciato il cosiddetto guru, Pietro Tamburella, questo è il nome della persona a processo, e hanno confermato davanti al giudice abusi su di noi nella setta. Il processo però si allunga e si allungano i tempi perché verrà ripreso a dicembre. Nel taglio basso invece la scienza, tecnologia aquilana sul satellite che cerca l'energia oscura, costruiti nella sede abruzzese di Tales Alenia, il trasponder e l'antenna del razzo Euclid, quindi l'eccellenza tecnologica delle aziende abruzzesi che hanno sede in Abruzzo, multinazionali che hanno sede in Abruzzo e le applicazioni per le ricerche scientifiche nello spazio. Nel taglio alto invece gli eventi di Estatica al Marina di Pescara 50 a Sciola, Fabri Fibra, Metti Uli. C'è un richiamo in prima pagina di un'intervista che tra un po' andremo a vedere insieme per la montagna di Ramana, per la stazione sciistica e turistica estiva di Pratiritivo. Parla Finori, il gestore degli impianti di risalita. Rilancerò la stazione sciistica, grandi eventi oltre alla neve. Questo è il titolo che sintetizza il pensiero di Finori. E poi per quanto riguarda invece il mercato del calcio con il Pescara in primo piano, obiettivo Manzari come esterno d'attacco. Il 22enne Baresi ha giocato nell'ultima stagione con il Monopoli, realizzando nove reti. Con Merola costituirebbe una bella coppia per Zeman. Iniziamo a sfogliare le pagine del messaggero e in primo piano ritroviamo proprio l'argomento ferrovia, il potenziamento della Roma-Pescara. Il commissario, ieri intervenuto proprio a Pescara ad un evento organizzato dalla CISL, ha garantito pronti con i primi lotti. Vincenzo Macello, che è, come dicevamo, dirigente di RFI. Da subito la tratta dell'Interporto, ha assicurato Macello. Poi Tagliacozzo-Vezzano è sul Monapratola, quindi si andrà avanti per Lotti. Ovviamente questi saranno messi presto a gara. È intervenuto anche il Presidente della Regione, Marsilio. I finanziamenti ci sono, adesso è un dovere aprire i cantieri. Quindi nessuna preoccupazione, nessun rischio che l'opera salti, nonostante non beneficerà più dei fondi, delle risorse, del PNRR. Andiamo subito sulle pagine di Pescara. Lo scandalo in comune. Interviene il Sindaco Masci e dice, non mi dimetto, il Sindaco dalla difesa del dirigente alla lucida presa d'atto del tradimento. La maggioranza è compatta. Andiamo avanti. Dall'opposizione invece le accuse politiche condotte note da Mesi, così secondo gli esponenti dell'opposizione. Ho bisogno di 24 ore, avrebbe detto Masci di rientro da Israele, da una missione in Israele e poi dai funerali a Milano di Silvio Berlusconi, mentre per quanto riguarda l'opposizione, il PD presenta 14 quesiti sulla gestione degli appalti e chiede al Sindaco di fare un passo indietro. Intanto emergono altri dettagli dall'inchiesta attraverso le intercettazioni. Trisi si vantò a pranzo con il quartiglio, così definito un po' il nucleo principale di questa inchiesta, che è poi portato agli arresti di 4 persone, lo stesso Trisi, il dirigente comunale, l'imprenditore delle Onibus e due presunti pusher. Trisi diceva appunto così, ho aiutato il candidato al concorso dal fascicolo dei PM Sciarrette e Benigni, dettagli e retroscena delle azioni degli arrestati. Dal numero chiamato ad alta voce si capiva quale busta scegliere, insomma dettagli che emergono dalle intercettazioni che sono state disposte e sono entrate nel fascicolo della procura. Intanto sempre da Pescara diamo conto della notizia del rinvio, dell'apertura del cantiere per i lavori in Corso Vittorio. Rinviato il cantiere non apre il 19 giugno, nuova data prevista il 24 luglio per non interferire con il periodo dei saldi, ma c'è comunque malcontento tra i commercianti. Poi altra inchiesta, ancora cronaca giudiziaria, da Ruggero richiesta di rito abbreviato per la morte di Trotta, il primario suicida in Cella. Il 21 settembre la discussione avvasto per la direttrice del carcere, Giuseppina Ruggero. Stralcio invece per Antonio Cagliazza, assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria e addetto alla sorveglianza dei detenuti. Possiamo sfogliare pagine, andiamo avanti. Siamo agli eventi per la rassegna estatica, 50 serate sotto le stelle del Marina, Fabri Fibra, Mettiulli e Tananai, tra i nomi principali, orchestra 12 note, donne tra opera e jazz. Strever e Salce commentano una cornice unica che abbiamo il dovere di valorizzare. Eventi in programma del 24 giugno fino al 31 agosto. Il Festival Mar è la novità, non il gioco di parole ovviamente che richiama il vecchio Festival Bar. Spazio a libri, cibo e salute. Poi, brutte sorprese per i frequentatori delle piscine delle Naia. Distaccata la corrente elettrica, acqua fredda in piscina e docce gelide. Nuovo blackout tra ipotesi guasto. Oppure bollette non pagate. Intanto è uscito il bando europeo per la gestione dell'importante impianto natatorio pescarese. L'Aquila, la sanità in 500 per reclamare una sanità all'altezza. Marrelli della CGL, c'è bisogno di risorse, investimenti in personale e tecnologia. Poi, altro rappresentante sindacale, Iapadre, c'è un attacco generalizzato a tutto il settore pubblico dell'assistenza. Ieri si è svolta questa protesta davanti all'ospedale dell'Aquila. Nel taglio alto, invece, la sentenza, l'ennesima sentenza sul sisma del 2009, stavolta vittime senza colpe, nello stesso crollo in via Campo di Fossa, a tre dei morti è stato riconosciuto un concorso, mentre a due no. Dunque, come vedete, anche i diversi filoni, i diversi processi e quindi, automaticamente, i diversi giudici che intervengono, danno versioni, visioni ed emettono sentenze radicalmente opposte. Taglio basso, attacco hacker alla ASL dell'Aquila, critiche dal garante della privacy, l'azienda sanitaria ha 15 giorni di tempo per comunicare alle persone coinvolte la violazione dei propri dati. C'è stato ieri questo intervento netto, appunto, del garante della privacy ai danni della ASL dell'Aquila. Turismo, sempre nel capoluogo, ripartono il trenino e il turno di operatori. La strategia dell'amministrazione viene premiata dai dati di afflusso. La rassegna porterà in città, per la seconda volta, la stampa specializzata del settore. Ma è il giorno di lutto all'Aquila perché è morto Don Nunzio Spinelli, il rettore che ha accolto due papi a Collemaggio, aveva 80 anni. Andiamo ancora avanti, siamo ad Avezzano, Cunicoli, una due giorni di festa e visite. L'iniziativa nelle gallerie di Claudio va inquadrata in quella più ampia della cultura in movimento. La città viene esposta ai partecipanti a cominciare dalla vecchia chiesa rivisitata di San Bartolomeo. Tra l'altro in questi giorni, proprio da oggi e fino a domenica, ci sono le giornate dell'archeologia e quindi con tante realtà, tanti siti archeologici visitabili, grazie anche all'intervento e alla partecipazione della sovrintendenza in tutto il territorio abruzzese, ci sono appuntamenti ed eventi dedicati a questi tre giorni. Andiamo a Chieti, medicina e odontoiatria ai test pure gli studenti delle superiori, tutto pronto all'adannunzio, prove online e 268 posti fra italiani e stranieri. La professoressa Muraro, necessario iscriversi al sito Cisi a gradatoria il 5. settembre, taglio basso sempre da Chieti, il dissesto, il dissesto finanziario del Comune arriva in Consiglio Comunale. La seduta convocata per questa mattina in prima convocazione andrà sicuramente deserta e quindi si andrà in aula direttamente giovedì alle 17.30. Ovviamente, come abbiamo più volte documentato, Chieti è in una situazione economico-finanziaria molto molto difficile con la dichiarazione di dissesto da parte della Giunta. Il maltempo, su di noi si è abbattuto un tornado, notte di timore e di emergenza, ad archi sgomberate 10 case, a Perano i vigili del fuoco salvano 200 pecore e capre, ingrossati i fiumi Sangro e Sinello, a bomba aperta la paratia della Diga, divieti per i ponti a Gesso Palena e Casalbordino. Insomma, tante situazioni di allarme a causa della forte ondata di maltempo che ieri si è abbattuta, soprattutto sull'area della bassa provincia di Chieti, speriamo che da oggi le cose migliorino. Eccoci nelle pagine di Teramo. La cronaca giudiziaria, abusi sessuali del guru, le accuse da 11 adepti. Il processo a Pietro Tamburella, presunto capo di una setta a Campi, che vedete qui nella foto a destra, insieme alla sua collaboratrice Valeria Ficarra, entrambi a processo appunto il collegio dei giudici guidato dal presidente del Tribunale di Teramo, vedete nella foto a sinistra, Carlo Calvaresi. Dopo la trascrizione delle intercettazioni si tornerà in aula verso la fine di dicembre per una nuova udienza. Patto in prefettura, banche sempre più blindate, non solo rapine, il protocollo previene anche gli assalti ai bancomat e alle truffe online. Ieri la firma di questo protocollo tra prefettura e banche, ma i dati sono molto rassicuranti, di fatto sono quasi scomparsi gli assalti agli istituti, agli sportelli bancari e ai bancomat, resta molto alta invece l'attenzione sulle truffe online. Nel taglio basso l'intervista che vi anticipavo invece prima, leggendo la prima pagina, l'intervista di Maurizio Di Biaggio a Finori, Marco Finori, il gestore degli impianti dei Pratiditivo, dice Finori, sci e grandi eventi, così rilancerò la stazione. L'imprenditore non è però sicuro di poter riattivare domani la seggio cabinovia, si era parlato appunto di domani come primo giorno di rimessa in funzione, come dire, la seggio cabinovia probabilmente non sarà così. Dalla montagna al mare invece i problemi per la qualità delle acque a Giulianova, balneazione attesa per le nuove analisi, i due tratti di mare off-limits a causa degli inquinanti e l'effetto dei fiumi in piena gonfiati dalle ultime piogge. Il maltempo di queste ultime ore sta rendendo meno urgenti l'esito degli esami bis e la rimozione dei divieti sul Lido, anche se già da oggi insomma il meteo è nettamente in miglioramento e potrebbe portare delle persone, molte persone in questo fine settimana, al mare. E intanto a proposito di ambiente, turismo, rilancio del territorio, ho presentato Terramane con un gioco di parole con il nostro dialetto, il dialetto abruzzese, Terramano in particolare, il rilancio del turismo con un unico brand studiato dal GAL, il GAL appunto, Terreverdi, Terramane. Gli effetti del maltempo sul territorio, frane, il meteo fa ancora paura, ha dichiarato lo stato di emergenza a Campli, il ritorno a casa degli sfollati, delle famiglie sfollate nella frazione di Garrufo, possibile solo dopo la fine dei nubi fragi, domani sopra luogo nelle zone colpite. E poi taglio basso, ricostruzione e nuovi appalti, le nuove direttive del commissario Guido Castelli. Andiamo a chiudere con i titoli dallo Sport, Pescara e Manzari, il primo obiettivo. Il 22enne barese quest'anno ha giocato con il Monopoli, realizzando nove reti, dal 30 giugno però tornerà il Frosinone che è la sua squadra di appartenenza. Nel mirino anche il 33enne Curcio, è intanto l'ex delfino canale e tra i top della serie D, il pescarese classe 2004 è finito nel mirino di molti club di C e anche di uno di serie B. In eccellenza la prima mossa del nuovo città di Terramo, guidato dal presidente di Antonio, Paoluzzi è il direttore generale. Partiamo con un progetto innovativo, queste le sue prime dichiarazioni rese. dopo la firma con tanto di stretta di mano, come vedete nella foto, con il presidente di Antonio. Oggi in programma un vertice con il DS Paolo D'Ercole per capire se ci sono i margini per la riconferma e quindi si inizia ad entrare più decisamente nelle questioni tecniche. Volley, Pineto, altro colpo. Nikacevic, patrono abbondanza, ha raggiunto l'accordo col centrale croato. Il 27enne è nazionale da 10 anni, ha giocato anche in Champions, quindi prende forma la squadra che disputerà il campionato di serie A2. La Sieco invece ha ufficializzato la conferma del Baby Ferrato. Ortona ormai è casa mia e ritrovo molti miei compagni. Insomma, con queste notizie, con questi titoli che danno conto dei tanti movimenti di mercato nei vari sport, dal calcio al volley, ci fermiamo per questo appuntamento con la nostra rassegna stampa che tornerà, come di consueto, anche domani sempre alle 7. Invece vi ricordo di non perdere alle 9, più tardi, l'appuntamento quotidiano con A Colazione. Questa mattina ci sarà la conduzione Fabrizia Cardinale. È davvero tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.